Ricapitolando, Monci è il nuovo DS della Roma e Manolas sembrerebbe in partenza. Parliamone! Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale in questo nuovo video in cui torniamo a parlare di calcio. Quindi torna la rubrica parliamo di calcio che a cadenza, non ha una cadenza vera e propria in realtà, questa rubrica sul mio canale, ma comunque la trovate qui sotto, trovate la playlist completa nella descrizione. Comunque girovagando sul mio canale troverete anche questa playlist. Tant'è vero che anche oggi avevo in mente un video simile a quello che ho fatto sul Barcellona dopo il 6 a 1 al Paris Saint Germain, lo trovate qui sopra. E per l'appunto vi dirò prima la mia e poi ci leggeremo qualche commento sotto un mio post su Facebook. E quindi possiamo partire. Allora, andiamo in ordine, andiamo in ordine cronologico. Anche se nel titolo c'è prima Monci, io parlerei prima di Manolas. Questo perché? Perché dal punto di vista cronologico si parla di tantissimo tempo di questa telenovela, no? Perché così è diventata Costas-Manolas visto sempre di più lontano da Roma. E, sapete, le voci possono girare. Il problema è che sembrerebbero non essere solo voci. C'è stato un forte interesse mostrato dall'Inter, che comunque è una diretta concorrente, diciamocelo. Perché adesso, ragazzi, l'Inter prima o poi dovrà comunque tornare tra le grandi e sembrerebbe che le cose abbiano cominciato a girare bene. Ho trovato comunque un attimo le notere come Pioli, che comunque ti ha dimostrato anche alla Lazio, con una squadra che comunque era inferiore alla Rosa che all'Inter, no? Quindi chiariamo anche questo discorso qui. Ti ha dimostrato di poter per qualche anno comunque avere abbastanza continuità. E sicuramente con una società molto ambiziosa è che, regà, c'ha i soldi. Perché anche quelli sono importanti. E l'Inter in questi anni, magari sì, i soldi non li ha spesi benissimo, perché ha preso dei giocatori che non valevano realmente quella cifra, senza andare a specificare, no? Però comunque ha dimostrato di poter dire la sua all'interno del calciomercato europeo. E ha puntato, ha messo gli occhi su Manolas da qualche mese ormai, no? Perché comunque Manolas ha il contratto di scadenza, che non è ancora stato rinnovato. E adesso, noi ci fermiamo qui. Perché le notizie concrete finiscono qui, di base, no? C'è l'Inter che, come molti altri club europei, è interessato, forse ecco, l'Inter in pole position, per l'interesse sempre, su Manolas, quindi è interessato a Manolas, e il greco non ha ancora rinnovato il contratto. Perché? Perché da quello che traspare, insomma, da quello che ci è arrivato da parte sua, la società non ha intenzione di dare al greco, insomma, la cifra che lui vorrebbe. E adesso io vi faccio una semplice domanda. Se partisse Manolas, per voi, sarebbe uno scandalo oppure no? E in questo momento stoppate il video e andate a commentare, con una motivazione. Io vi dico che per me sarebbe uno scandalo, ma non perché Manolas non possa partire, per carità. Nel calcio, cioè il calcio viene mandato avanti anche dal mercato, ovviamente una squadra viene mandata avanti anche dal mercato, il giro di soldi e tutto quanto, entrate e uscite, acquisti e eccessioni, ma parliamo comunque sia, nonostante il brutto periodo che magari sta attraversando ultimamente, del perno difensivo della Roma, oltre che di un giocatore comunque fortissimo, ma io ci terrei a precisare del perno difensivo della Roma. E cosa vuol dire? Vuol dire che se partisse Manolas, dopo che tu negli ultimi anni hai cambiato squadra, sei sempre ripartito da zero, hai sempre o quasi cambiato sette undicesimi a estate, non mi puoi andare a vendere Manolas, perché se tu vai a vendere Manolas, allora ristiamo da capo a 12, in particolar modo se poi tu mi vai a vendere Manolas all'Inter. Non è casuale la parentesi che ho fatto poco fa sull'Inter, l'Inter l'anno prossimo, se gli diamo anche Manolas praticamente a parametro zero, perché il contratto non si è ancora rinnovato, ci passa sopra. Quindi facciamo molta attenzione, perché io ve lo dico, l'Inter l'anno prossimo metterà paura molte squadre di Serie A. Quindi per me, se si vuole davvero iniziare un progetto ambizioso, bisogna non, cioè bisogna iniziare non a non vendere, ma quantomeno a non vendere il tuo miglior giocatore in un reparto, perché poi si parla sempre di quello, l'anno scorso hai venduto Pjanic, tre anni fa hai venduto Benassia, quattro anni fa hai venduto Marchinhos e la Mela, ragazzi, non prendiamoci in giro, è sempre questo il discorso, perché ditelo subito, allora, dite, noi vogliamo fare un progetto all'Audinese, vogliamo fare un progetto di plus valenze, e allora, vabbè, ok, tu vuoi prendere i giocatori a parametro zero, a 5 milioni e rivenderli a 50, a 60? Non ci sono problemi, basta ufficializzarlo. Perché? Perché siamo a Roma, ma in qualsiasi altra società sarebbe giusto ufficializzare una cosa del genere, ma se tu poi, a Roma, conoscendo comunque l'ambiente e tutto quanto, ogni anno carichi sempre di più, quest'anno si vince lo Scudetto, quest'anno vogliamo vincere l'Europa League, quest'anno la decima Coppa Italia, so dieci anni e dobbiamo vincere la decima Coppa Italia, regà, e dai, quindi è quello il discorso. Adesso, passando invece al secondo argomento, Monci. Ragazzi, Monci viene dal Siviglia, e io mi auguro di sbagliarmi, e mi auguro di sbagliarmi, lo dico subito, perché magari poi arriva Monci e l'Arma vince la Champions League, ma Monci arriva dal Siviglia, ed è praticamente Sabatini 2.0. A me Sabatini, a dirvela tutta, piaceva anche, ma perché se n'è andato da Roma? Oltre al fatto che lui non riusciva più a stare nell'ambiente per motivi personali, se n'è andato da Roma, e comunque veniva criticato ogni volta, per il suo modo di agire sul mercato, ovvero, prendeva giocatori a poco, li rivendeva a tanto, e di conseguenza, si trattava quasi sempre di giocatori importanti per la Roma, e quindi ogni anno si va a ricominciare da capo a 12, come dicevo prima. E questo che fa? Questo cosa fa? Ha preso Dani Alves al Siviglia, per 20 milioni, l'ha rivenduto al Barcellona per 40. Eh, bravo! Cioè, io se vuoi sto qua ad applaudirti per 10 minuti, però anche lì, cioè, io vi ripeto ragazzi, spero di sbagliarmi, ma come si può pensare, pensare a un progetto del genere? Allora, secondo me, faccio questo discorso con mio zio, sempre, Giuventino, eccetera, ieri in macchina, un progetto del genere, tu lo puoi fare in una squadra quando già, comunque, è una squadra vincente, e quindi hai bisogno comunque di ricominciare un ciclo, prendi giocatori giovani a poco, li rivendi a tanto, eccetera, eccetera. Ma non puoi pensare di fare questa cosa con una squadra che ancora stai costruendo per vincere qualcosa, secondo me. Però adesso, dato che è tanto che sto parlando, e spero di essere stato il più chiaro possibile in tutti i concetti, poi al limite, ragazzi, qui sotto nei commenti cercherò di rispondervi o meno a tutti se avete dubbi. Allora, ieri su Facebook, preso un po' dalla curiosità, più che altro, perché alla fine ho affrontato le cose con molta tranquillità, ho scritto, Monci è il nuovo DS della Roma e Manolas sembra in partenza. Cosa ne pensate? Mi sono arrivata una cosa come 50 commenti, quindi mi siete regolati, ma perché avevo scritto che finivate in un video. Allora, vi siete divisi, vi siete divisi, ad esempio Gianluca ci scrive, Monci ottimo DS, mentre Manolas lo vedo alquanto svogliato e onestamente, a noi serve gente che onori la maglia al 100%, e che non pensi solo ai soldi. E invece, Vladi ci scrive, Manolas andrà via solo se lo deciderà la società per motivi economici, lui vuole restare. Francesco scrive, Manolas non ci sta più con la testa. Se sarà un regalo, che te devo dire? Ma chiaramente ci sono anche quelli che giustamente insistono su un tassello importante. Manolas se va via non deve andare in Italia. Matteo ci scrive, Monci uno dei migliori DS in Europa, per Manolas invece può partire, l'importante non per una big italiana. E così via Pietro, basta che non mettete Manolas a una big italiana, se no la Roma deve solo spararsi secondo me, e ovviamente lo scudetto poi rimarrà sempre un miraggio, rinforzando le squadre rivali. Poi ci sono anche un paio di tifosi di altre squadre, che hanno commentato il mio post. Ad esempio Anthony ci dice, Da miranista, spero che questo Monci vi possa aiutare in qualche modo, tramite acquisti importanti, e soprattutto che contribuisca a risolvere il problema dei pochi giocatori. Manolas dipende dove andrà, ma credo che è un giocatore importante per la Roma, e che sia un gran difensore. Mentre Lorenzo, da nord a sud, ci parla da tifoso napoletano, e ci dice, Secondo me Monci è un grande S, essendo stato nel Siviglia, è fortemente voluto al Real. Su Manolas dico che è un grande giocatore, ma sarebbe meglio venderlo ad una grande che offre tanto, perché a parer mio, ha finito il suo spettacolo. Ciao Fede, sei un grande. Mi sono salutato da solo. Cioè, sono un coglione. Vabbè. Ciao Lore. Nicola però, secondo me, ha centrato proprio il bandolo della matassa, come piaceva dire al buon vecchio Fabio Caressa su FIFA 09. Tant'è che ci scrive, che ci frega di Manolas, se compriamo Vizcar Rondo. È bravo Nicola, non ci avevamo manco pensato a Vizcar Rondo, Vizcar Rondo che è il giocatore migliore che possa esistere, e tu non ci fai a pensare. Bravo Nicola, mi sei piaciuto, bel ragionamento. Un applauso. Perché poi due diventano troppi. E adesso, signori, è arrivato il momento più atteso del video, perché l'ultimo commento l'ho lasciato alla fine. Secondo me non poteva essere altrimenti, perché è il commento che secondo me risponde in maniera migliore alla domanda che ho fatto, ed è il commento più elaborato, per così dire, e forse il termine più giusto. Perché alla mia domanda, cosa ne pensate? Giulia risponde, non penso. Are we crazy? Bene ragazzuoli, siamo arrivati al termine di questo video, in cui vi parlavo, insomma, della, vi dicevo la mia, su Monci Manolas, sul futuro, in pratica, della Roma, fondamentalmente, e in cui leggevamo anche un po' di commenti, cosa che mi piace molto, perché poi vi vedo molto partecipi, e quindi probabilmente, riporterò anche questa tipologia di video, e per questa tipologia di video, intendo con i commenti, perché il parlare di calcio è qualcosa che mi piace, da quando sono nato, e quindi perché non dovrei farlo. Detto questo, io spero ovviamente che il video vi sia piaciuto, e per piaciuto intendo che sia stato il più logico, e soprattutto il più chiaro possibile. Quindi ovviamente, se così è stato, lasciate like, altrimenti, fatevi i cazzi vostri. Grazie. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, noi ci becchiamo con i prossimi video, sabato esce un episodio super, e dico super, di carriera, perché ci sarà tutto il mese di dicembre, e poi settimana prossima, ci saranno anche annunci importanti, vi ricordo che ci vediamo a Romics, ma io non vi ho detto niente, quindi, un bacione, e bella regà. Grazie a tutti.